Sono state 31 le imprese storiche della provincia di Cosenza che la Camera di Commercio ha inteso premiare. La manifestazione si è svolta giovedì pomeriggio presso la sala Mancini dell'ente camerale alla presenza oltre che dei premiati di autorità istituzionali, militari e civili. Ma oggi è un giorno importante per l'ente camerale, lo è per me, per la mia giunta e tutto il consiglio. Oggi noi facciamo giusto due anni, due anni fa ancora non è stato neanche eletto e penso che è più bel regale oggi premiare queste 31 imprese che hanno oltre mezzo secolo, chi molto di più, quelle uomini e donne che hanno fatto la buona impresa in questi anni. Questo è un'ente camerale di 154 anni e in 154 anni non sono state mai premiate a nessuna imprese del genere. Quindi è con grande soddisfazione oggi vederle tutti insieme lì a parlare, a fare la festa delle imprese perché fondamentalmente quest'ente è delle imprese. Le 31 imprese sono state selezionate in base ad un bando pubblico diffuso dalla Camera di Commercio, assegnando per l'occasione una medaglia d'oro e un diploma di benemerenza. Intanto è la festa delle imprese perché le imprese sono quelle che ci garantiscono e ci garantiranno un futuro e una prosperità economica. Senza imprese non c'è ricchezza, non c'è benessere, non c'è lavoro. Quindi la festa delle imprese è la festa di tutti noi in quanto tutti noi abbiamo e godiamo dei frutti del lavoro delle imprese. E poi la caratteristica è che fare impresa per quanto difficile è esaltante ed è possibile. E soprattutto è possibile farlo mettendo insieme la tradizione con l'innovazione che è poi il senso della festa di oggi. La Camera di Commercio di Cosenza con il premio alle imprese storiche ha voluto decantare i valori storici della cultura di impresa e quel grande patrimonio di esperienze che dimostra il coraggio di imprenditori propensi verso un futuro sempre presente mettendo in evidenza le reali energie di chi opera quotidianamente e seguendo quei principi di qualità che si sono distinti ed espressi per così lungo tempo. Con il Presidente Clauso Algeri abbiamo più volte parlato della situazione della Calabria che ha certamente tanti problemi, tanti aspetti critici ma che ha questa forza e vitalità del fare impresa che soprattutto nel territorio cosentino è molto forte, molto sentito. Il compito di tutti noi è di aiutare chi vuole fare impresa a farlo con più facilità e soprattutto alle imprese che vogliono crescere, espandersi, entrare nel mondo, fare molta innovazione per essere sempre più competitivi poterlo fare con l'aiuto delle Camere di Commercio.